I protagonisti della serata dell'Allianz Stadium, Aurelio. Sì, eccolo qui José Mourinho, allora, è successo di tutto, soprattutto negli ultimi minuti, c'è il disordine delle emozioni, proviamo a riavvolgere il nastro. Anzitutto si parla tantissimo del gesto finale, è stata una reazione a caldo, no? Non si parla di 94 minuti di insulto, non si parla di questo. Anche di questo, naturalmente José Mourinho è stato insultato. Io ho cambiato 94 minuti di insulti per questo gesto, non ho offeso a nessuno. A caldo lo riferiste? A freddo? A freddo no, ovviamente no, però anche a caldo non è un'offesa, non è un insulto. Aveva provocato anche all'andata però, Aurelio, ditello. Prego? Aveva provocato anche all'andata con il gesto del 3, se ricordiamo bene. Sì, 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 era stato il gesto.